I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno rintracciato e arrestato nella stazione ferroviaria di Napoli centrale Giovanni Fabrocino, figlio del boss Mario Fabrocino, quest'ultimo attualmente detenuto e ritenuto a capo dell'omonimo clan attivo dell'area visuviana. Sul figlio del boss pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata da finalità mafiose, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA Partenopea. Secondo gli inquirenti Giovanni Fabrocino avrebbe messo a segno un'estorsione e non è riuscito a compierne un'altra sempre nei confronti dei titolari di un'impresa di trasporti di San Gennaro Vesuviano. Luca Corbellotti, colonnello Gruppo Castello di Cisterna. Per quello che ci risulta il trasporto era destinato solo e esclusivamente a queste piante di olivo che in una quantità molto elevata che riguardavano l'ampliamento della sua attività perché Fabrocino Giovanni è proprietario di un bivaio e intendeva espandere questa attività commerciale acquistando queste piante di olivo in provincia di Bari. Ed è stato catturato dai carabinieri in rasse della droga Raffaele Piscitelli, detto ocervinese, affiliato al clan Carfora, attivo a Maddaloni e comuni limitrofi. La sua latitanza è durata nove mesi. Per catturarlo sono stati impiegati circa 50 carabinieri del nucleo investigativo di Caserta e personale del settimo nucleo elicottero di Ponte Cagnano. L'uomo è stato trovato in un casolare abbandonato in località Casanova sulla montagna di Durazzano nella provincia di Benevento. Alfonso Pannone, comandante reparto operativo Caserta Alle prime ruole dell'alba abbiamo fatto un intervento in una località nei pressi di Durazzano in cui sono stati impiegati una quarantina di carabinieri del reparto operativo e della stazione Sant'Agata dei Goti e in più un elicottero del nucleo elicottero di Ponte Cagnano che utilizzando anche la telecamera termica ci ha dato la copertura per poter accedere in un casolare dove si era rifugiato appunto il latitante. Grazie a tutti!